Salve a tutti, in questo video vediamo come rimuovere quel brutto effetto degli occhi rossi, tipico del flash della fotocamera. Allora, c'è uno strumento che Photoshop ci mette a disposizione ed è lo strumento di correzione occhi rossi. Allora, io su Photoshop CC lo trovo qua giù, quindi faccio tasto destro qua giù, strumento occhi rossi. Se non lo trovate potete usare anche il cerca qua in alto a destra, disponibile su Photoshop CC. Quindi clicchiamo sulla lente, scriviamo occhi rossi ed eccolo qua, strumento occhi rossi. Possiamo cliccare qui. Allora, una volta selezionato lo strumento vediamo che c'è dimensione della pupilla e scurisci del. Di base sono entrambi settati al 50%, consiglio di lasciarli su 50 e 50. Quindi allora cosa faccio? Duplico lo sfondo per agire in modo non distruttivo, quindi tasto destro sullo sfondo, duplica livello, ok. E con lo strumento selezionato faccio un clic sulla pupilla rossa per risolvere il problema. Quindi andiamo al centro e clicchiamo. Vado qua a destra e clicchiamo. Ed ecco fatto, abbiamo risolto il problema. Se vedete che ci sono dei problemi, allora dovete agire su questi due valori, dimensione pupilla e scurisci del. Ora faccio annulla per farvi vedere che è possibile anche selezionare così con il sinistro la pupilla, ma io preferisco fare un clic centrale perché a volte non funziona. Vedete, come in questo caso, non ha funzionato. Quindi preferisco fare un clic centrale in questo modo per far funzionare velocemente lo strumento occhi rossi. Quindi questo è come risolvere velocemente il problema degli occhi rossi grazie a un tool qua presente su Adobe Photoshop CC e precedenti. Un saluto a tutti.